Ciao a tutti, oggi prepareremo il tortino cuore morbido al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti più il tempo di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, cioccolato bianco, crema di pistacchi, zucchero e burro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco, e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere il burro e lo zucchero. ed azionare il bimbi per 6 minuti, 60 gradi, velocità 3. Lasciare raffreddare. Trascorso il tempo amalgamare con la spatola. Aggiungere la crema di pistacchi. le uova e la farina. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Versare il composto, gli stampini monoporzioni imburrati e infarinati. coprire con l'alluminio e riporre in congelatore per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i tortini dal congelatore, adesso li cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi nella parte centrale del forno per 20 minuti. tortino cuore morbido al pistacchio grazie e alla prossima ricetta coprire con l'alluminio e riporre in congelatore al pistacchio grazie e alla prossima ricetta. grazie